Dopo i colori della Petronas passiamo ad altri colori che hanno fatto la storia del rally italiano e parliamo dei colori della Martini, diciamo una grande carriera che hai avuto in Lancia Sì, ho iniziato proprio con questo modello di macchina, correre nella scuola Lancia nell'83 vincendo l'italiano e il campionato europeo e poi dall'84 all'85, sempre con la 037 che è questa macchina ho fatto il campionato del mondo, nell'86 ho vinto la mia prima gara di mondiale con la S4 con i colori Martini per poi passare nell'87 a tutta la serie delle Delta, le sei annate vincenti nel campionato del mondo Marche e i due titoli mondiali per me con la Delta nell'88 e nell'89 Della tua carriera sportiva in Lancia qual è la macchina che ricordi con più emozione? La macchina che mi ha dato più emozione sicuramente è stata l'S4 che è stata la macchina più potente che ha partecipato ai rally come gruppo B, eravamo quasi a 600 cavalli di potenza quindi una macchina eccezionale con un'accelerazione fantastica purtroppo erano macchine anche molto pericolose quindi sono state abolite però noi piloti siamo degli animali da corsa quindi più cavalli avevamo a disposizione più eravamo contenti e di conseguenza abbiamo fatto veramente delle stagioni memorabili per il rallyismo mondiale E come avete vissuto in Lancia l'abolizione del gruppo B? La Lancia aveva pronta già la Delta dopo la S4 e quindi dalla 4VD nell'87 con cui ho vinto la prima gara d'esordio il rally in Monte Carlo fino al 92 è stato veramente un salire di prestazioni e di vittorie mondiali nel campionato Marche Dovessi dare un consiglio a un giovane che vuole intraprendere questa carriera? Innanzitutto secondo me i giovani devono iniziare con una certa umiltà nel senso che già la crisi economica fa fatica a passare e trovare sponsor è sempre più difficile conviene iniziare con una macchina piccola cercando di mettersi in evidenza nelle piccole categorie non volere subito correre con delle macchine estremamente performanti e veloci perché innanzitutto si spende molto meno e poi chi va forte lo si vede sia con una macchina piccola che con una macchina potente quindi conviene fare più gare e spendere meno soldi e poi sicuramente passare anche a una categoria superiore Grazie, ringraziamo ancora Michi e Biazion per la sua disponibilità Grazie a voi